pesi del benelli qua dovete copiarlo a parte che lui sposta e va bene ma non spostate niente che non serve qua lenti allarga bene non diglielo giù dentro qua bravo e salti su sul coso dentro qua e giri larga vai gira da qua a scelta no a scelta vostra non serve far così eh non serve fallo a pelo di là che c'è già il coso vai giù fino a là e poi la chiudi l'hai fatta da schifo posso dirtela l'hai fatta da schifo l'ha fatta da schifo stavolta no intanto che tu sei andato ti ho allargato i cosi non gli diciamo niente vuoi rifarla se si deve riposare adesso chi pare adesso fa caldo è qua no no dai chi la fa dai la fa ste via mi raccomando concentrato ti faccio solo quattro ti mettiamo un coso come il marco vedi che ti abbiamo allargato e scorta così ci sta chiudila subito e li annunciassi giù bravo largati un bel po' tronco tronco se vuoi se no di sopra come vuoi quando lo zappi dice non passate qua non passate qua così fai qua dovevi arrivare da qua da dove sei passato vieni rifa 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 oh zona no no devi andare a fare quella dai forza forza e coraggio più veloce più veloce cosa serve cosa serve ma cosa serve ma cosa serve non mi stacca la frizione vai dai muor vai non mi stacca la frizione non mi stacca la frizione secondo me è lui che non gli dà gas dai a zero dai a zero ma cazzo ma cazzo ma è così difficile scusa ma se l'allarghi di più è questo che è da noia fai fai vedere Ale cosa vuol dire dai dai Ale non vale andare nelle varianti non vale andare nelle varianti vai Grazie a tutti, grazie a tutti.